Tutto sarà stata una commedia, una rumorosa, romantica commedia con delle macchie di sangue sulla veste pomponesca, questo è il paese. Eccellenza, chissà il paese, non è caduto sta giù. Eccellenza! Cui? Rosario, eccellenza! Rosario, ho un epistolo momento. No, 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 non sono entrati, non sono entrati. Non voglio che si spaventi, è giusto che pensino che la situazione è sotto controllo, che tutto sommato, i primi ad essere tranquilli, siamo proprio noi, no? Come mandate, eccellenza? Rosario, sciocchezze appunto, quella storia di questo spagno. Eh, ma questa volta le sciocchezze potrebbero essere molto più grandi di lui. Ecco. Allora, andiamo sopra, ditevi quello che dovete dire. Andiamo, forza! E qui da mezz'ora è quello che avete detto lui. Sapete quanto mi accaro tanti reddi, no? Sì. Quando si tratta di quello, ci sono confessionali segreti che tengono. Portatemi in stella e giocatemi la schiena, avanti. Sì. Che è successivo? E questo sbarco non sarà una cosa da poco, avrà delle conseguenze ben più gravi. Qualcuno è morto. Il mio corpo affaticato non ha resistito al grande lutto dell'estate siciliana. Ha dovuto la forza di aspettare la pioggia. È dato lui di essere fonte di tutto e tutti. Perché c'è morte di speranza. E questo è un po' di più. Anna, che ci fate qui? Concentivo, vedi. Padre Pirrole, vi far recitare Salve Regina da parte mia in onore dei soldati caduti in difesa della ronda terra. Come volete, padre. Cari pardi! Un corruto!